e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere questo nuovo film che è arrivato in blu ray limited edition 3d più blu ray di top gun fantastico film con tom croiss questa è la copertina laterale top gun limited 3d edition questo è il retro un'esperienza imperdibile disco 1 blu ray 3d disco di blu ray e contenuti speciali questo è il retro dobbiamo vedere all'interno ecco qua top gun blu ray disc e top gun blu ray 3d e niente ciao tutti belli